Benvenuti in un nuovo video, ci siamo invertite per questa volta oggi siamo qui per provare 3 mega barrettone che ho trovato da barrettone, sì, che ho trovato da Lidl le ho pagate non mi ricordo, ma se mi sbaglio intorno ai 2 euro non superavano i 2 euro a vista sembrano un po' le duple fake della Milka no, che fake ma che ne sottomarca sono 3 gusti diversi, ve li ho fatti già vedere, ma ce ne sono 4 in realtà sono 4 gusti, però io il gusto nocciola non l'ho preso vai, scegli ah, il cioccolato Fairtrade il macchio è Finca Re Finca Re pensiamo con questa Choco Biscuits eccola qua mi va a vedere è da 300 grammi produzione Lidl nocciola sinceramente non l'ho voluta prendere perché non era nulla di particolare presenta così si sta sciogliendo guardate com'è forse di qui si vede meglio io trovo che sono ancora che vedi sì, sì, l'altra volta che sono andata ma secondo me ci sono sempre oh, c'erano già si sta sciogliendo guarda qua vai buono questo ti ricorda? a me ricorda tanto l'oro ciocco sta facendo il ringo a barretta brava, sì quello che sento di più come retro gusto è proprio il biscotto il cioccolato è bello adottante sì è soffatto sotto il biscotto si sente molto di più rispetto al cioccolato esterno cioè si sente il cioccolato esterno perché sopra e sotto però il biscotto si sente tantissimo wow questa qui viene in inverno top anche il cioccolato è molto buono questo è il gusto il marchio è neo di questi biscotti ci c'è anche ci sono i biscotti i cereali sì, sì poi sarebbe un po' simile ok il cioccolato pure sempre il cioccolato è sempre si è spaccato quello che non si deve spaccare si è spaccato non vedi che fa? guarda ok anche di copo fa volta sì all'interno si sente tantissimo questo dentro sono proprio i cereali con i cereali con i cereali doppi questo ripeto queste in inverno sono eccezionali non danno nulla da invidiare alle milk No sono molto valide Prima come sono sulla confezione Sono nella realtà Sono così Ok andiamo con l'ultimo gusto Abbiamo provato anche L'originale La vita Aspetta, gusto Peanut Quindi caramello Con 100% Cioccolato al latte a pino Questa Mamma mia Guarda qua Ma come si sente Quella è diversa Perché ci stanno le nocciole Ha gli arachidi Eh gli arachidi La pubblica Questo è proprio uguale Ma perché Il cioccolato Si sta a sciogliere Si scioglie Però sentire anche la croccantezza Del cioccolato Wow Somiglia molto a quella Milka La mia castiga Però Tra le due Si scelta Questa è Milka Milka Ma pure perché Noi voi Milka l'avevamo provata Era solida Perciò ho detto Però alla fine Se state trovando State cercando Una buona Tra virgolette Sottomarca Perché poi alla fine Non lo è È molto molto valida Una mia classifica personale Penso sia la stessa Allora Il primo posto Caramello Quindi questa Secondo posto Io mi sento di mettere Biscotto Quindi quella lì Un po' rosario Oppure ringo La seconda invece Diciamo La terza Al terzo posto Quella Simi L'Oreo E sono indecisa Tra le ultime due Anche se anche quella È molto buona Perché sono molto buone Forse è anche un biscotto Ma me le avete consigliate voi E io sono andata al supermercato Le ho trovate E ho detto Non le devo prendere Infatti ce le abbiamo Quasi da un mese secondo me Quindi era meglio Che lo facciamo prima però Tra una cosa e un'altra Sono buonissime E quindi nulla Ne speriamo che in questo video Vi sia piaciuto E noi ci vediamo nel prossimo video Ciao Ciao